chi ha paura della lettera ain e soprattutto che fine ha fatto in hindi e urdu oggi con questo video cercheremo di svelare questo mistero ma una premessa è doverosa coloro fra gli stranieri che si cimentano con lo studio della lingua araba sono destinati invariabilmente a scontrarsi con alcune difficoltà quando si misurano con l'inventario fonetico di questa lingua e no non mi sto riferendo a suoni come o come perché parliamoci chiaro questi sono suoni da pivelli sto parlando proprio della famigerata lettera ain che tecnicamente è una faringale fricativa sonora potrei meglio descriverla come un suono che ricorda un conato di vomito e mi rendo conto che non è un'immagine molto gradevole ma vi assicuro potrei essere anche più cruento vi faccio vedere la forma di questa lettera che è questa come vedete assomiglia a un 3 che si guarda allo specchio ed è questo il motivo per cui questa lettera sarà trascritta con un 3 nei sottotitoli di questo video ma sentiamo ora come suona la ain accompagnata dalle tre vocali brevi della lingua araba abbiamo a non è proprio una cosa per deboli di cuore me ne rendo conto un libro vecchissimo proponeva un certo esperimento e cioè quello di cantare a una scala musicale al contrario cercando cioè di raggiungere la nota più grave possibile una volta raggiunta la nota più bassa che fossimo stati capaci di emettere continuare a sforzarci fino a produrre un suono strozzato che sarebbe stato proprio il suono della lettera ain a questo punto come minimo dovete provarci ma io mi asterrò certo all'inizio di una parola con un po di esercizio non è impossibile pronunciare questo suono pensiamo ad esempio alla parola araba che significa miele che è asal asal non impossibile direi è certamente più difficile pronunciare la ain dopo una vocale e prima di una consonante come ad esempio nella voce verbale araba a a rifu che significa so conosco come ad esempio nella frase la a rifu delic la a rifu delic a rifu a rifu è difficile pronunciarla dopo un suono vocalico più semplice e subito prima di una consonante difficile è anche pronunciarla in fine di parola specie se ci asteniamo dal dal pronunciare lì arab cioè le desinenze di declinazione sì perché l'arabo ha anche una declinazione quantomeno nella sua versione classica quindi ad esempio pensiamo alla parola che vuol dire settimana e che in arabo è come ad esempio nella frase ci incontreremo la settimana prossima vi chiederete a cosa sia servito tutto questo paneggirico e cosa centri con le lingue hindi e urdu bene sapete già che l'urdu è di riflesso e di conseguenza la lingua hindi si sono imbevute di tantissimi termini arabi anche tanti termini arabi che contenevano la lettera ain l'urdu ne ha conservato anche la grafia per cui la lettera ain è scritta nelle parole in grafia urdu tuttavia le lingue indiane non dispongono nel loro inventario fonetico di questo suono per fortuna direi anche e quindi la ain è semplicemente non pronunciata però a volte può influenzare alcuni suoni vocalici che la precedono vediamo degli esempi uno dei termini arabi che vogliono dire edificio è aimara aimara che è passato in urdu e viene pronunciato imarat imarat che significa sempre edificio e qui non notiamo alcun cambiamento un altro termine arabo che significa uso utilizzo è isti amel isti amel con la ain viene pronunciata dopo una i breve ebbene quando la ain segue una i breve in urdu la i breve viene pronunciata e e la ain ignorata totalmente e quindi uso o utilizzo lo pronunceremo istemal istemal quando la ain segue una vocale u breve come per esempio nel in una parola araba che significa dipartimento e che è shu'aba shu'aba in urdu pronunceremo la u breve come una o e quindi pronunceremo shu'aba shu'aba ancora quando la ain segue una a breve farà pronunciare questa a breve come una a lunga come ad esempio nella parola araba ma'alum ma'alum che in urdu si pronuncia semplicemente ma'alum ma'alum fra gli urdofoni non mancano coloro che hanno una ottima conoscenza dell'arabo perché magari l'hanno studiato come lingua straniera anche per interesse religioso e potrebbe accadere che questi parlanti pronunciano la ain secondo il suo valore fonetico originario in lingua araba questo non è comune ed è anche considerato pedante ma cosa succede invece in hindi la lingua hindi utilizza comunemente molti termini in comune con la lingua urdu derivati dall'arabo anche nei quali originariamente era presente la lettera ain ma semplicemente nella scrittura della nagri non esiste alcun simbolo per riprodurre l'esistenza originaria di questo fonema per cui possiamo star certi che in hindi non sopravvive mai alcuna pronuncia alcuna traccia di questo suono e per fortuna direi vediamo un esempio con le parole di prima e prendiamo il caso di istemal uso se io volessi dire utilizzi il mio telefono direi in hindi e in urdu merafon istemal kiji e merafon istemal kiji e istemal kiji e utilizzi onor del vero diciamo anche che un termine ancora più hindi per dire utilizzare è priog karna e quindi in questo caso la frase potrebbe essere un po più indizzata merafon priokiji e questo è quanto siamo contenti di poter studiare delle lingue indiane senza dover pronunciare la ain altrimenti sai che fatica spero che questo video sia stato interessante per coloro che si interessano ad una o più di queste lingue o comunque semplicemente ai curiosi e adesso come minimo dovete imparare tutti a pronunciare la ain ciao